Sarà Ron il protagonista del concerto Il Centro Esatto della Musica, in programma il 25 agosto a Mosciano Sant'Angelo. Il calendario di eventi presentati alla stampa nei giorni scorsi promette di offrire momenti indimenticabili. Tre giorni di festa, il 24, 25 e 26 agosto in onore di Sant'Alessandro. Il presidente del comitato festa e organizzatore Angelo Settembrini, il parroco Don Pietro Dallone, il main sponsor rappresentato da Bruno Mercattilli, l'assessore comunale alla cultura Donatella Cordone, Antonio Di Vello, di Musicomania Servizi per lo Spettacolo, hanno illustrato gli appuntamenti in programma che spaziano dal teatro alla musica, con particolare attenzione anche ai più piccoli e all'enogastronomia locale. Apertura della tre giorni di festa, il 24 agosto con lo spettacolo teatrale Tutti nell'armadio della compagnia Donatori. Momento clou il 25 agosto con la musica di Ron, one-man show del concerto Il Centro Esatto della Musica, in cui il celebre cantautore si esibirà in un emozionante spettacolo. Il 26 agosto il complesso bandistico Città di Lanciano si esibirà in concerto e la serata sarà ricca di attività ludico-ricreative per i più piccoli e un'ampia scelta di street food esaltando le prelibatezze enogastronomiche locali. La grande conclusione sarà affidata a uno spettacolo di giochi pirotecnici che illuminerà il cielo e lascerà tutti con il fiato sospeso.